Grazie a tutti. Il lancio del governatore De Luca in merito al nuovo piano ospedaliero che sarà presentato entro fine marzo sembra far tirare un sospiro di sollievo ai cittadini campani e agli operatori del settore. Buone notizie anche per il nosocomio metelliano. A Salerno l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona batte cassa nei confronti dei furbetti del cartellino coinvolti nell'inchiesta Just in Time. Sono partite infatti le procedure per recuperare i soldi sui conti bancari dei sette dipendenti licenziati dall'azienda e sui conti dei dipendenti sospesi. L'ammontare è di circa 20.000 euro. Attivi da qualche giorno oltre 100 milioni di euro per l'autoimpiego destinata agli iscritti di garanzia giovani che prevedono finanziamenti da restituire a tasso ultra agevolato in sette anni. Continua sul territorio l'azione di controllo da parte della polizia locale per contrastare gli episodi di accattonaggio. A Nocere Inferiore gli agenti della polizia locale hanno individuato e smantellato un campo rom alle spalle dello stadio San Francesco. Anche a Cava dei Tirreni prosegue la lotta al fenomeno dell'accattonaggio molesto. Nei giorni scorsi sono stati identificati e sanzionati tre cittadini romeni intenti ad effettuare questa molesta arrecando disturbo e disagio ai passanti. Due nuovi bed and breakfast a Cava dei Tirreni gestiti da persone con disabilità o esigenze speciali. L'iniziativa che mira il loro inserimento nel mondo del lavoro è stata presentata ieri a Palazzo di Città. Sono già due le attività abbiate nella città metelliana. Apriamo la pagina sportiva. Una cavese senza dee e con poco fiato è caduta a roccella dopo dieci risultati utili consecutivi. Decisive le reti subite nei primi sette minuti di gioco da Dorato e Johnson. Il decimo gol stagionale di Variale, segnato a inizio ripresa, è servito solo a rendere meno pesante il passivo. A fine gara il presidente Campitiello, deluso e arrabbiato, ha imposto a squadra e tecnico il silenzio stampa. Intanto Frattese e Siracusa volano in testa la classifica. Partita la preparazione in vista del match di domenica prossima contro la Leon Fortese, in programma alle 15.30. Intanto brutte notizie per i supporters Aquilotti. Infatti il questore di Caserta ha adottato il provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive d'Aspo nei confronti di 68 Ultras coinvolti nei disordini avvenuti in occasione della partita Aversa-Normanna-Cavese dello scorso 21 febbraio presso lo stadio Bisceglia di Aversa. Bisce il cavabasket che nel recupero contro la fragola Oaks porta a casa un'altra importantissima vittoria dopo il risultato positivo di appena tre giorni prima contro il Torre Annunziata. Un'iniezione di fiducia per il team metelliano che esce così dal blackout delle passate gare. Grazie per averci seguito, l'informazione torna più tardi. Una buona giornata dalla redazione di RTC Quartarete.